Un 49enne pregiudicato di Riposto è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia all'uomo e per futili motivi. Sabato scorso ha aggredito la moglie e la figlioletta di 11 anni che in preda al panico sono poi riuscite a fuggire rifugiandosi nella sede del comando stazione dei carabinieri della via della Repubblica Riposto. Qui intorno alle 22.30 di sabato sono state poi soccorse dai militari dell'arma che hanno raccolto la testimonianza dalle due vittime nel frattempo accompagnate presso la locale guardia medica. Entrambi hanno riportato contusioni guaribili in sette giorni. I carabinieri hanno quindi avviato le ricerche dell'aggressore rintracciandolo poco più tardi e stato arrestato e tradotto nel carcere di Piazza Lanza a Catania con l'accusa di maltrattamenti, vessazioni che secondo i carabinieri andavano avanti da qualche anno.